Sono tornati a protestare i lavoratori della Util Service, questa volta però lo hanno fatto con un sitino in Piazza Duomo davanti a Palazzo Vermexio. Bandiere e striscioni per dire no alla decisione del comune di Siracusa di ridurre i servizi a sostegno dell'ente. Un comune che polverizza i lavoratori, sminuzzando i servizi, e un comune che si rende colpevole di macelleria sociale. L'amministrazione si sta assumendo una grossa responsabilità e dovrà renderne conto ad oltre 30 famiglie e a tutti i siracusani. Duro il commento della segretaria generale della FISA SCAT CISL Ragusa Siracusa Teresa Pintacorona che continua se il comune di Siracusa intende assegnare più appalti, uno per ogni servizio necessario, ci sarà la polverizzazione dei lavoratori su più fronti. Questo metterà a rischio i diritti sindacali di molti di loro che potrebbero ritrovarsi divisi e in poche unità a gestire questo o quel servizio. Qualcuno si è assunto una grande e pericolosissima responsabilità, quella di polverizzare anche la solidarietà, ha aggiunto Teresa Pintacorona, una colpa di cui il sindacato non può e non deve macchiarsi. In piazza per protestare anche e soprattutto contro il taglio dei bus navetta che ha creato un danno sia ai lavoratori che ai cittadini e dai turisti che non possono soffrire del trasporto pubblico all'interno del centro storico. Nelle ore di ZTL infatti ad accedere con l'auto in Ortigia sono soltanto i residenti e gli autorizzati, mentre gli anziani e chi ha problemi motori e non è autorizzato deve trovare autonomamente una soluzione. Come sostengono i lavoratori e il sindacato sono a rischio 32 posti di lavoro.